Attraverso il capogruppo carrerese il Movimento 5 Stelle lancia l'allarme sui contributi per le calamità 2014 e 2015 messe a disposizione dalla protezione civile attraverso la regione toscana. Le risorse a disposizione sono il 3% dei danni accertati e non c'è certezza sulla copertura del finanziamento. Ancora dubbi sull'iter di rimborso dei cittadini colpite dalle calamità registrate tra il 2014 e il 2015 messe a disposizione dalla protezione civile attraverso la regione toscana. Dopo alcune segnalazioni arrivate proprio dagli aventi diritto anche il Movimento 5 Stelle esprime perplessità sul meccanismo di erogazione del contributo e lo fa per voce del consigliere regionale Giacomo Giannarelli supportato dal capogruppo carrerese Matteo Martinelli. Abbiamo spulciato dei libere ordinanze e abbiamo capito che nonostante si parli di contributi quello che viene messo a disposizione in realtà è un finanziamento a attaccato Giannarelli. Secondo il consigliere regionale da nessuna parte negli atti si trova un riferimento esplicito che garantisca la copertura totale del finanziamento che verrà erogato. Una tesi quella dei grillini che smentisce le rassicurazioni diffuse dalle istituzioni secondo le quali il finanziamento attivato dagli istituti bancari a favore degli aventi diritto sarà rimborsato dallo Stato. Secondo Giannarelli e Martinelli i numeri parlano da soli. La delibera del governo mette a disposizione per tutto il paese 60 milioni di euro. I danni denunciati solo dai cittadini toscani sono 150 milioni, spiegano i due portavoce grillini. sottolineando la sproporzione tra offerta e domanda. Anche per questo il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle in Regione ha presentato una mozione ad hoc in cui si chiedono chiarimenti nero su bianco sulle coperture e sulle modalità di rimborso del finanziamento. Pretendiamo che il governo faccia chiarezza e dica le cose come stanno. Basta con questa politica degli annunci, ha concluso Giannarelli.